e poi la butta dietro questione di tecnico quindi a usare una spinta splendida recuperare il pallone questo è calcio contro l'Inghilterra Tomua sotto pressione Cooper inventa qualcosa quindi Cummins guarda 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 Ashton in vantaggio si ma dietro è il segugio peggiore che gli potrebbero tentare è che finora hanno pochissimi palloni da prima fase rimesso ok ma la cosa fondamentale è quella scusami gli inglesi che devono tentare di assorbire la terza linea australiana nel primo raggruppamento possibile